Buone notizie per i cittadini di Caggiano in quarantena e che stanno lavorando da casa in modalità smart working. Il sindaco di Caggiano Modesto la mattina nei giorni scorsi aveva richiesto a tutti gli operatori di telefonia mobile nazionale la concessione di giga illimitati e minuti illimitati per tutti i cittadini residenti nel comune di Caggiano e per tutta la durata dell'emergenza. Nella giornata di oggi è arrivato l'ok dalla compagnia telefonica Tim che con la schermata apparsa sui cellulari dei suoi abbonati residenti a Caggiano ha comunicato la concessione di minuti e giga illimitati. Si tratta, aveva sottolineato il sindaco nel documento inviato agli operatori di telefonia mobile di un'azione di solidarietà digitale che potrebbe rendere più facile la ripresa economica della nostra piccola ma produttiva comunità. Sono numerosi anche a Caggiano i dipendenti pubblici e privati, professionisti e lavoratori che dallo scorso 15 marzo, quando il comune di Caggiano è stato dichiarato da De Luca a zona rossa stanno svolgendo la propria attività da remoto e con strumentazione telematica propria aggiungendosi ad alunni ed insegnanti che già dalla data di chiusura delle scuole curano la didattica attraverso le piattaforme su internet. Una richiesta inoltrata dalla mattina anche per andare incontro alle già diverse difficoltà economiche che i cittadini devono affrontare.